Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo. Il momento scioccante in cui un neonato viene trovato abbandonato in una borsa. La malvagità di molte persone a volte non ha limiti. Per quanto triste possa sembrare, la verità è che siamo di fronte a una società che sembra ogni giorno più senza scrupoli e audace, capace di giocare con la vita dei più innocenti. La cosa buona è che non tutte le persone sono così e davanti a quelle anime oscure ci sono sempre esseri pieni di luce che sono disposti ad agire per fare del bene. Sono loro che servono come strumento perché avvengano grandi miracoli, come quello di questa creatura che è riuscita a sopravvivere dopo essere stata lasciata in un sacchetto di plastica in mezzo alla foresta. Lo sfortunato evento è avvenuto a Giorgia nel mese di giugno, e la notizia è stata resa nota grazie a un drammatico video del salvataggio che è stato pubblicato dall'ufficio dello sceriffo della contea di Forsyth. A quanto pare, intorno alle 10 di notte, un eroe anonimo ha sentito il grido della creatura in una zona boschiva e ha deciso di venire ad indagare su quanto stava accadendo prima di denunciare alle autorità. Nelle immagini del video, l'eroe viene osservato mentre racconta come poteva sentire il pianto dalla sua casa e che i suoi figli erano irrepieti per la situazione. I miei figli hanno detto, questo è un bambino e io ho detto, questo è un animale, ha raccontato l'uomo nel video. Ma era un neonato che veniva lasciato allo scoperto senza alcun tipo di cappotto, a parte il sacchetto di plastica in cui era avvolto. Le immagini sono davvero strazianti mentre il bambino indifeso piange con il cordone ombelicale ancora attaccato a lei. Guardati cara! Mi dispiace molto, dice un ufficiale al momento del salvataggio. La piccola è stata coperta tra alcuni teli e coperte prima di essere trasferita in un centro sanitario per ricevere cure mediche. Fortunatamente, la ragazza che hanno deciso di chiamare India era sana e le autorità hanno iniziato la ricerca dei responsabili o di alcune informazioni sui suoi genitori. Siamo lieti di segnalare che bebi India è fiorente ed è sotto la cura del Dipartimento della Famiglia e dei Servizi per l'Infanzia della Georgia, ha spiegato la polizia. Il video è stato condiviso in modo che qualcuno potesse aiutare a localizzare la sua famiglia, tuttavia, dopo mesi dal ritrovamento, la polizia non ha ricevuto informazioni rilevanti. Nel tentativo di trovare la madre, le autorità hanno rilasciato una foto recente del bambino. Speriamo davvero che questa bambina trovi presto la sua famiglia o trovi i genitori responsabili che possano darle tutto l'amore che merita. Condividi questa notizia. Benedizioni, Sioni